Sì, è matto! Grazie a tutti Grazie a tutti Non ti posso riprendere chiaramente perché sarebbe troppo... No perché altrimenti poi ti chiede il ministro Esatto Allora... Ma sei a partire? Vado al prossimo avviso Vi richiamo A presto allora L'hai visto il servizio che hanno fatto sul fiume che è cavata? Quello lì Quanto? Sta andando in replica su Tele Extra Una cosa da una televisione locale che si sta occupando della... Grazie a tutti Grazie a tutti